Ma ti è mai capitato quando chiami un call center che sia più difficile parlare con un operatore che risolve un tipo di rubic? Ci sono un sacco di numeri da mettere in stupco, ma scusate perché? Beh, sicuramente è capitato a tutti, anche perché sono talmente fastidiosi che rimangono impresso nella testa e non c'è un vero e proprio motivo, secondo me è una mancanza di attenzione alla customer experience, quindi a pensare a come l'utente finale percepirà quell'interazione con l'azienda, col suo prodotto, col suo servizio, con i suoi operatori, con la sua piattaforma. Se avete esempi di aziende che non rendono la user experience un cubo di rubic, fateci sapere nei commenti che saremmo molto contenti di riportare queste esperienze positive. E di condividerle con voi. Esatto. Stop whining, stop playing.